Simona Galassi, ex campionessa di Pugilato, è la prima donna inserita nella Hall of Fame della categoria. Un altro prestigioso traguardo raggiunto a coronare una carriera costellata da grandi soddisfazioni ottenute sulle ringhe. Mi fa sicuramente piacere. Il mio percorso sportivo è stato costellato da grandi soddisfazioni e da grandi sacrifici, ma allo stesso tempo veramente tantissime cose positive, quindi sono felice che questo riconoscimento sia arrivato anche per me, e spero che sia l'apripista per tante donne che nella loro vita cercheranno e riusciranno ad ottenere grandi traguardi col Pugilato. Recente la sua partecipazione anche nelle vesti di testimonial per lo IOR nella campagna La mia mamma è bellissima. È stato un messaggio che volevamo dare d'impatto e a quanto pare ha avuto già il suo successo. Per quel che riguarda una compagna sociale che aiuta le donne impegnate nella lotta contro il cancro, quindi impegnate anche loro in una lotta ben più importante di quella di salire semplicemente sul ring, che dona loro delle parrucche, quindi abbiamo realizzato questo spot proprio legato al combattimento, al ring, legato al sentirsi più forte con una protezione che non è il caschetto del ring, ma in questo caso una parrucca.